Che emozioni, che emozioni al Tour de France, Mark Cavendish, Cannonball, torna a vincere, torna a vincere dopo 5 anni, 6 anni dopo, sullo stesso traguardo. 31 vittori al Tour, 152 in carriera, ma lui a questo Tour non ci doveva andare, ci è andato per l'esclusione di Sam Bennett, ci è andato però per meriti anche, perché ultimamente dopo 2-3 anni di buio, 2-3 anni in cui non riusciva ad esprimere il suo potenziale, eccolo qua, eccolo qua che dall'alto della sua esperienza torna a battere un colpo al Tour de France, rimane senza parole, rimane commosso, rimane in lacrime nell'intervista finale, perché lui ha vinto 31 il Tour, ne ha vinto 152, ma ancora si emoziona, ancora si emoziona e ancora piange arrivando in questi arrivi, perché questo ha un valore speciale, un valore di riconquista, un valore particolare rispetto alle altre, proprio perché è riuscito a vincere una tappa dopo tutto questo tempo, dopo tutto quello che ha passato, dopo un calvario sportivo, un calvario vero e proprio, ed è un bel messaggio anche dopo tutto quello che era successo negli scorsi giorni, le cadute, la volata da ieri tra Iwan e Sagan, che aveva insomma coinvolto tutti i due corridori con Iwan, che peraltro poi non è partito oggi, insomma veramente ci voleva un messaggio forte, un messaggio di speranza, anche un messaggio di rinascita anche per questo Tour de France, dopo tre tappe veramente da dimenticare per tanti aspetti, e che invece oggi tornano a farci sentire le vere emozioni del ciclismo, perché sono emozioni vere, perché è stata una tappa bellissima fino alla fine, con Van Moor, che è stato ripreso alla fine a 200 metri, a 150 metri dal traguardo, dopo che aveva veramente fatto un capolavoro, l'ha sfiorato di confezionare una vera e propria impresa, una specie di miracolo sportivo avrebbe fatto il corridore della Lotto Sud, l'aveva andato veramente a un passo da fare tutto ciò, e ha sottolineato, anche nell'intervista, come veramente sono stati importanti la maglia gialla, Mathieu Van Der Poel con la drenata che ha fatto, ma anche Giuliana Lafilippe, cioè un campione del mondo, una maglia gialla, che umilmente, con grande umiltà, con grande spirito di sacrificio, si mettono a disposizione dei propri compagni di squadra, si mettono a disposizione per fare arrivare la volata e non fare arrivare la fuga, e anche questo veramente la dice lunga, sull'umiltà che hanno questi grandissimi campioni, e perché sono grandi campioni? Perché hanno anche queste caratteristiche, questa umiltà, questo volare basso, questo restare sempre con i piedi per terra, e mettersi sempre a disposizione dei compagni, dicendo, bene, io se vinco, certo, sono meriti miei, ma anche meriti della squadra, appena posso io rendo il favore, e tiro anche per le volate dei miei compagni, ve lo ricorderete l'anno in cui alla Filippe portò la maglia gialla, fino a due tappe dalla fine, e arrivò quinto in quel Tour de France, alla Filippe si mise sempre a disposizione della squadra, tirò le volate, e fece tutto in quel Tour de France, questo è bello anche dei grandi campioni, non di prime donne, ma ragazzi che umilmente, quando c'è bisogno, si abbassano, a mettersi a disposizione agli altri corridori, veramente, è stata una volata bellissima, con Cavendish, e proprio, l'ha vinta di potenza, l'ha vinta di attributi, l'ha vinta veramente, con tutta la voglia, con tutta la voglia che aveva, di andare a prendersi, in tutte le maniere, questo successo, quindi veramente onore, onore a Mark Cavendish, onore a questo fenomeno, a questo grande corridore, perché soltanto, questi fuori classe, un fuori classe della volata, fuori classe in salita, sanno regalare delle emozioni, e Mark Cavendish, veramente oggi, nonostante appunto, sia stata una tappa in volata, e che magari tanto, l'avevano presa sotto gamba, ci ha regalato, delle emozioni straordinarie, e insomma, speriamo che questo tour de France, possa continuare, a farci parlare, di queste cose belle, di queste emozioni, di queste palpitazioni, e non di quello, che invece ci ha fatto parlare, nelle prime tre tappe, fatemi sapere, nei commenti, che cosa ne pensate, una valanga di piaciere al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto, e a questo punto, arrivederci ragazzi, e al prossimo video.